segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è molto difficile questo anno primo giorno di guerra quando iniziato l'anno scorsa abbiamo pianto tutte le giorni tutte le settimane io per tutto l'anno io non ho visto un film io solo sto guardando notizie sto cercando nel cellulare o c'è questi sereni quando finiscano quando cominciano non è perso mai speranza noi noi vinciamo speranza che vinciamo vinciamo dio aiuta europa america aiuta con armi e vinciamo ma che speranza sono siamo tutti giù con questa guerra purtroppo così speranza sembra già sta però dov'è sta questa speranza voi vedete io non è rimasta mia famiglia mio figlio quello fa medico lui vede come si finisce giovani ragazzi quelli rimasti senza mano senza braccio e senza piedi ragazzi di 23 anni quelli solo iniziano vita pagano per la nostra libertà noi vinciamo io credo lo so io molto credo perché dio vede chi c'ha ragione che non ci sta pensiamo che dio aiuta queste cose che dio fa pace in popolo ucraino che soffre che soffre troppo grazie